Pronti? Uno, due, tre. Valido subito il primo tentativo con veloce Venere Mark che va a condurre nei confronti di Zenith Moe All'esterno è 5 di Pensiero Adri mentre prova a proporsi lungo la corda Vassallo in terza posizione Seconda pariglia esterna c'è Taiga Jet, viene via subito in terza ruota dalle retrovie Samima Ferro che cerca di rifare il gruppo mentre Venere Mark Guida viene in terza ruota Taiga Jet che sposta a largo va a chiedere strada, la ottiene dopo 450 metri di corsa in 31 il primo quarto e Taiga Jet è all'avanguardia, Pensiero Adri è rimasto allo scoperto per il momento resta a lato di Vassallo in quarta posizione deve spostare allora Maurizio Cheli in salchia Donatello Sisu perché Pensiero Adri retrocede viene in terza ruota invece A per FKS che cerca di rifarsi sotto a largo cerca di andare allo scoperto dopo 800 metri passati in 1, 2 e 7 in vantaggio Taiga Jet nei confronti di Venere Mark all'esterno A per FKS lungo la corda c'è Venere Mark, ancora Donatello Sisu al passaggio davanti alle tribune in vantaggio Taiga Jet all'esterno è Viking 3B, scusate non A per FKS richiesto Viking 3B per andare sulla testa della corsa davanti alle tribune un parziale in 14 e mezzo, sbaglia Moncheri Venus, Taiga Jet che replica il primo tentativo da parte di Viking 3B che è richiesto e scende in seconda posizione poi Venere Mark, ancora Zenith Mou Vassallo mentre prova a muoversi dalle retrovie Vento da Barco che viene in terza ruota con decisione e in vantaggio Taiga Jet a largo Viking 3B in mezzo alla pista Vento da Barco che recupera grandi folate, Taiga Jet è in vantaggio nei confronti di Viking 3B, poi Vento da Barco ancora Vassallo a 300 metri dalla conclusione in evidenza Taiga Jet che ha respinto un altro tentativo di Viking 3B poi Vento da Barco che ritorna in mezzo alla pista, la retta d'arrivo con Taiga Jet in vantaggio poi Viking 3B in mezzo alla pista Vento da Barco che prova lo sprint Taiga in vantaggio, recupera a largo Viking, recupera Vento da Barco ma nel finale Taiga Jet si difende fino in fondo da Viking 3B al terzo posto Vento da Barco, poi ancora Vassallo e quindi Avicaciac SM da rivedere ovviamente il quarto e il quinto, 1.17 e mezzo, raguaglio cronometrico per il successo di Taiga Jet Antonio Di Nardo per il training di Marco Azzaroni da programma, colori della signora Corradino Diana il successo del 10, 10-13-7, l'ordine arrivo per la Tris, 10-13-7 poi dovrebbe arrivare l'8 di Vassallo per il quartello, aspettiamo nelle immagini eccolo qui transitare, il 9 di Avicaciac SM per il quinto successo di Taiga Jet Antonio Di Nardo Antonio Di Nardo Antonio Di Nardo